Cosa c'era in quella grotta? C'è su bambino. In quella grotta scura non c'era mai entrato nessuno per paura, ma un giorno una pecorella che si era persa vi entrò. E cosa vide? C'è nessuno. È permesso. Si può entrare. Entra pure pecorella smandita, comodo. Sento tanto freddo, tanto camminato, che ora mi vorrei riposare. Le mie zampette si piegano. Fa pure, si, c'è della paglia e una mangiatoria. Sono pure un buonassino, state vicini così vi riscalderemo. È buio, buio, non si viene niente, ah che sonno. Oh, la pecorella mia, fredda, al cielo, dove sarà? Speriamo che abbia trovato il riparo, perché sta a presevi cari. Oh, come sono stato in sentenza superficiale. Se avessi vegliato, forse la mia pecorella è sempre ancora con me. Oh, ecco una grotta. Entra pure, buon pastore. Quello che c'è chi è chi è. Ma ti ho parlato, dove c'è? Ma ti ho parlato, dove c'è? Qui nella croca, non c'è ancora luce. Non si può vedere, ma si può dire. Sì, è giusto. Ah, è un po' Oh, becorella mia, sei qui, dove sei? Non ti vedo. Ah, come sono stanco. Ma come ho fatto a perdere la mia zampogna? Non è possibile. Qualcuno me l'ha rubata di sicuro. Al giorno oggi non c'è da fidarsi. Sono sicuro, e qualcuno me l'ha rubata. Oh, una grotta. Almeno non morirò da gelo. Mi farò una bella dormita. E tra pure il zampogna, non posso fare da mettere a piedi? E magari ci vorrebbe un po' di fiducia per gli altri. Ma se ritrovasse la mia zampogna, sarei contento. Ma chi sei? Ma chi sei? Eppure mi ha la faccia di sentire la volta. Ma sono stanco, parlo da solo. Quanto abbiamo camminato? Quanto abbiamo camminato? I miei poveri piedi dicono, basta. Sarà forse questa la grotta che cerchiamo? Ma non si vede neppure una stella. E della cometa neanche l'ombra. Alto che ora, incenso il mirro. Vorrei donare l'acqua per potermi lavare. Mi ho letto per dormire. Io invece vorrei essere arrivata alla meta. Ma forse, pecco di impazienza. E' un'altra cosa che mi troverete. Mi troverete per cercare. Ho sentito la voglia di un bambino. E voi? Ma no, sarà forse la stanchezza. Su, dormiamo che tra un po' ci verranno le rilucinazioni. Proprio come nel deserto. E voi cosa cercate? Chi cercate? La grotta dove il bambino nascerà è simbolo non solo della natività, ma della vita. E il Natale è proprio la festa della vita. Oh, ma dov'è Gesù? L'abbiamo cercato dappertutto. Si dovrà posizionare. Oh, ma dov'è Gesù? L'abbiamo cercato dappertutto. Ma perché lo cercavate? Non sapete passi che doveva scendere sulla vita? Ma non è giusto io il tempo. Ma come te, devo ancora partire? Dormi praticamente nella grotta. Ma qui sono arrivati già tutti. Non c'è. Ma chi l'ha travertito? Forse qualcuno per me. O qualcuno avrà creato un avvento su Facebook. Ma no, che dici? Ma ci pare. Ma come avranno fatto a trovare la via senza la mia luce? Ognuno ha seguito la luce del suo cuore. Una luce che a volte si spegne e ci fa sembrare tutto brutto. E senza senso, ma che all'improvviso si accende e ci ridone la gioia della vita. Allora che luce sia! E senza senso, ma che all'improvviso si accende e ci rilassero. Grazie.